Ma lo sapevate che nel mondo del cinema non tutti hanno amato il ruolo per cui sono diventati famosi? Ebbene oggi sono qua per parlarvi di 5 attori barra attrici che tornassero indietro nel tempo e avrebbero rifatto tutto in un modo diverso. Ciao sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Partiamo subito da un attore molto conosciuto, ovvero Zac Efron, il nostro ragazzo divenuto famoso grazie alla trilogia legata ad High School Musical ha praticamente ammesso che tornasse indietro nel tempo si prenderebbe a calci nel sedere che probabilmente non si piace nei panni di Troy Bolton e quindi ragazzi in una bellissima scena ci ha praticamente fatto capire che avrebbe praticamente rinunciato a quel ruolo tornasse indietro. E quindi ragazzi e ragazze per chi lo avesse tantissimo amato sappiate che se fosse stato per lui non avrete mai visto la sua versione del personaggio e probabilmente ne sareste rimasti anche delusi perché che io sappia tante ragazze li vanno ancora dietro. Proseguendo abbiamo anche Miley Cyrus che conosciamo tutti bene per il ruolo di Anna Montana che era la serie televisiva in cui lei era la famosa cantante. Diciamo che non le è piaciuta tantissimo tanto che quando è diventata cantante insomma ha cantato delle canzoni anche nella vita reale ha praticamente usato una palla demolitrice in una sua canzone per farci capire che voleva rompere diciamo con quel personaggio. Andando avanti non poteva mancare il nostro George Clooney e vi faccio solo immaginare di quale ruolo si stia lamentando. Sto parlando del ruolo di Bruce Wayne in Batman e Robin di Schumacher ruolo che praticamente gli ha rovinato la carriera dato che era l'unico uomo pistrello ad avere i capezzoli finti sul costume per non parlare di tutta la performance del film di cui praticamente continua a scusarsi tutt'oggi. Rimanendo in tema supereroi abbiamo anche Halle Berry ma non per il ruolo di Tempesta bensì quello di Catwoman nel 2005 per il quale vinse anche un Red's Award come peggiore attrice. La cosa non gli piacque proprio per niente tanto che prese il premio lo tirò e gli dette fuoco. Pazzesco. E come ultima attrice vi lascio qualcuno che non avreste mai pensato ovvero Kate Winslet nel suo ruolo nel Titanic. Sì è vero è stata impeccabile per noi ha creato una bellissima atmosfera con Leonardo DiCaprio però lei ha praticamente ammesso che non gli è piaciuto per niente come ha interpretato il ruolo di Rose e tornando indietro lo avrebbe rifatto in un modo diverso. E questi erano solo 5 attori barattrici che non hanno praticamente amato il ruolo per cui sono diventati famosi ma comunque ne esistono tantissimi altri come anche Robert Pattinson nella saga di Twilight. Nonostante tutto devono comunque ringraziare il fatto che siano dove sono adesso grazie a quei ruoli. Quindi ragazzi lamentatevi ma non troppo. Io comunque sono arrivato alla conclusione di questo video spero che l'abbiate apprezzato e vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi anche al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Katta Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!